Ciao ragazzi e ragazze, ciao Vitamina, oggi vi mostro il catalogo di Ivory Rush che in teoria è iniziato ieri, quindi è andato in piccolo ieri, 17 febbraio, termina il 15 marzo, vabbè, comunque come vedete dalla copertina c'è un prodotto più che nuovo, è un prodotto che hanno rinnovato e quindi hanno rinnovato e voluto insomma promuovere in questo catalogo. Allora, a sinistra abbiamo messo a mare quindi alcune offerte che ci spingono a controllare, allora innanzitutto vi faccio vedere subito il prodotto, ha un costo di 29,95, olio infuso di rosa, all'interno ci sono dei petali di rosa, texture olio setosa, praticamente l'efficacia di questo olio dimostra che il 100% delle donne dice che ha una pelle intensamente nutrita, elastica e riparata, è radiosa, questa in pratica la pelle ritrova immediatamente comfort ed elasticità, giorno dopo giorno è come riparata, intensamente nutrita, le rughe appaiono alle vigate e dopo un mese il viso è più luminoso, 29,99, 30 ml di prodotto. Tra l'altro è un olio con miller rossi di boccioli di rosa, infatti 30 oli preziosi, ripristina naturalmente, cioè ripristina naturalmente i meccanismi delle riparazioni della pelle, infuso di petali di rosa che stilano la pelle e nutrienti essenziali. Innanzitutto loro, questi prodotti anti-età, vi mettono un'offerta che secondo me è molto carina, cioè scopri come avere l'antirughe benefica a occhi e 50% di sconto. Come si fa? Questo è l'antirughe tipo della Linearish Cream, infatti c'è sempre la stessa formula, però in una nuova veste. In teoria, allora, se voi acquistate questo set, quindi l'olio nuovo più la crema benefica da giorno, 42,95, col 50% di sconto potete prendere il contorno occhi e lo pagate 14,98. Stessa cosa qui, cioè olio più la crema, quella ristrutturante che è quella che potete utilizzare sia da giorno che da notte perché fa benissimo, 47,95, al 50% di sconto potete prendere sempre il contorno occhi della stessa linea, 14,98. Poi abbiamo offerte per le creme mani antimacchia, fattore di protezione sonore, 20, 16,95. Poi due balsami labbra nutri-rimpolpante, 9,95. Poi abbiamo delle linee anti-age global, quindi per la linea, diciamo, anti-età, per avere anche una bella rigenerata, segni attenuti del tempo, incarnato, uniforme. Ivor Roche vi propone la Supra Essence più la crema anti-età sublimatrice da giorno, 54,95, tutti e due. Mentre sempre a 50% di sconto potete prendere il trattamento illuminante e pagarlo 18,98 anziché 30, la vedete? Poi c'è anche, insomma, alcuni prodotti delle varie linee in sconto, con lo sconto del 24%, 15%. Poi abbiamo qui, set per una pelle radiosa, prevenzione antimacchia, pelle radiosa, incarnato, uniforme. Allora, questo è il set che fa per voi. Sopra Essence più emulsione illuminante e fattore di protezione 30, 58,98, sempre col 50% di sconto potete prendere il trattamento illuminante e occhi a 18,98, sempre acquistando il set. Quindi è tutto un abbinamento. Quindi acquistate il set e pagate il contorno occhi della linea al 50%. Poi abbiamo anche alcuni prodotti della linea Feel Vegetal, l'ho sconto del 20, 30, anche 13%. Poi abbiamo set pelle rimpolpata, quindi per avere una pelle rimpolpata, per riempire le rughe e riepigarla. Abbiamo il siero rimpolpante ultra concentrato più trattamento antirrughe, 44,95. Sempre acquistando il set potete prendere il trattamento antirrughe e rimpolpante occhi a 14,98, già scontato del 50. Poi abbiamo la linea Exir Botanic, dove abbiamo alcuni prodotti in sconto al 24%, al 23%. Poi abbiamo il set pelle ossigenata, che abbiamo il serocutinale fortificante ad inquinamento più trattamento rigenerato ad inquinamento a 41,95. Con lo sconto sempre del 50% potete prendere il roll on occhi illuminante antifatica a 13,98. Poi linea Invece Lifting Vegetal, abbiamo anche dei prodotti in sconto del 20, 25, 24, mentre poi loro ci propongono con 44,95 il set pelle nevigata. Quindi, ridono a volume, distende i tratti, rinforza la pelle, 44,95, siero lift ultra concentrato più trattamento antirrughe e borsi a 14,98. Diciamo che ha una offerta in più per prendere anche il contorno occhi. Poi abbiamo per il viso specifico, quindi il viso specifico sono sempre quelle linee Idra Vegetal, Sebo Vegetal, Antiperfezioni, quindi vediamo un po' le offertine. Abbiamo in sconto il siero liquido ultra idratante a 17,95 e il gel fresco idratante antifatica a 12,95. Poi abbiamo linea Sebo Vegetal, linea Sensi di Camomile, Purumento, insomma i prezzi sono quelli, capite? Non sto qui a dirvi a... già, insomma. Poi abbiamo trucco e strucco, mix e match, acquisto due prodotti make-up da pagina 30 a 45. Il detergente lo potete pagare al 40% di sconto. Detergente, quali scegliere? Sono 4 che vi propongono ora, questi 4. La mousse, se acquistate sempre due prodotti make-up da quelle pagine che vi ho detto, lo pagate 7,77 anziché 10 euro. Questo, che è il Puralg, quello strucca, detergente e tossina alla pelle, anziché 15 euro, 10 euro e 17. Io sono ispirata per questo, raga. Ci ho puntato questo da quando ho visto il catalogo. Per pelle delicata, strucca, detergente e lenisce. Questo è un olio, struccante per gli occhi, non profuma, quindi è semplice, delicato. Anziché 12,95 euro, 8,97 euro. Poi da linea Purmint abbiamo l'acqua micenare, struccante e purificante. Anziché 17,95 euro, 10,77 euro, che è quella da 400 euro, strucca, detergente e purifica, per pelle non mai. No, per pelle miste e grassi. Questi sono i prodotti, diciamo, make-up in sconto, correttori a 9,95 euro, che poi sono anche scontati 8 euro con i volantini. Poi abbiamo fondotinta di sonno a 9,95 euro, quello, le radianti, l'antinquinamento, alcuni prodotti a 10,25 euro, terra di sonno a 9,95 euro, poi due matite a clore, 14,95 euro, mascara di sonno a 9,95 euro, alcuni 14,95 euro, palette, 24,95 euro, vabbè, eyeliner, 14,95 euro. Ombretto tenuta e tenuta, lunga tenuta, 15,95 euro, stile occhi, stesso pezzo. Poi abbiamo il set solo, 19,95 euro, cioè il rossetto matte, elixir matte, più la matita contorno labbra, insomma, molto carino. Poi abbiamo, gli altri sono normali, e basta, poi abbiamo le fragranze. Alcune fragranze, ah, queste, raga, con lo sconto del 40, prendetela, sono da 100 ml, e vi costano 26,95, prendetela, raga, sono stupende. Allora, a me piace. Martin Blanc, Sable Faux, non so come si pronuncia, il Plain Soleil, no, il Plain Soleil, no, il Sur La Land, e il Cour de Nuit, quindi questo, 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 ce li prenderei tutti, raga. Cioè, tutti quelli che vi ho detto, però, cioè, non lo posso fare, peccato, perché c'è, è calzato in un periodo dove io sono a terra, però, 26,95 sono in offerta, perché costano 40, figurati. Poi abbiamo, vabbè, scontati gli scrub, quindi gommaggio, ricco 11,95, gommaggio detox 11,95, però sempre sui volantini mi sembra che 8 euro. Poi ve li mostrerò, gommaggio vegetale, 9,95, poi abbiamo scontato le 40, il trattamento SOS 100% Carité, che ripara Nutri e Levica, 9,95, latte nutriente 12,95, S95, il balsamo doccia. Poi abbiamo un'offerta che, secondo me, è super, con 12,95, acquistate gel doccia, gel doccia shampoo più lo scrub, quindi è anche un motivo in più per chi vuole provare lo scrub, insomma, 12,95, ve lo prendete subito. Poi abbiamo i prodotti, scegli balsamo, scegli latex sur, 14,95 l'olio, 12,95 il balsamo. Poi abbiamo le fiale, per i conti caduta 24,95, shampoo, trattamenti, insomma, per gli shampoo. Poi abbiamo, vabbè, prodotti per il corpo, super bomba, raga, 3 bagnoschiume da 400 ml, 12,95. Dico super bomba, vabbè, perché certe volte 3 li pagavamo 9,90, però vedere queste offerte su questi set dei bagnoschiume è spettacolare, perché non l'abbiamo visto al momento, quindi 3 bagnoschiume da 12,95. Poi possiamo scegliere il set energizzante, che abbiamo, mela grana, pepe rosa, mango e coriandolo e lampone menta piperita. Oppure il set rilassante magnolia, olive, sì, olive, olive petite grain e grani di caffè. Poi abbiamo il set esotico, che a me piace, tranne quello alla vaniglia. Dico, vorrei dire, ma perché mi avete fatto un set di merda, cioè, a meno per me, perché a me con la vaniglia non piace, perché abbiamo vaniglia, noce di cocco e argan e petali di rosa. Oppure c'è anche questo, che questi due mi piacciono, mentre questo, ni, il set aromatico, quindi alga selvatico e finocchio marino. Fiori di camperica, questo, ni, e limone e basilico, che mi piace molto. Insomma, raga, questo è tutto il catalogo, spero vi piace. Boh, scrivetemi sotto quale vi piace come offerta. A me l'ultimo, quello del bagno schiuma, che un po' mi attira troppo, è quello dei detergenti viso, struccanti praticamente. Niente, raga, io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao!